Siamo all'interno dell'installazione di Christian Mohadet, autore di questa magnifica opera che ha collaborato con l'Europiana e ci troviamo nel cuore del fuorisalone. Grazie Christian per concedere questa intervista esclusiva per l'Architettonica. Grazie per dedicarvi il tuo tempo e per raccontarci in poche parole. Devo fare una domanda sulla tua installazione. Christian ci racconterà brevemente la sua magnifica opera installativa e ci racconterà quanta identità sua progettuale, personale è all'interno di quest'opera. Christian, grazie a voi e ho una domanda per te. Tu sei un new talent, un designer, un industrial designer, che va a crescere molto in questi anni, perché ho percebito molta identità e molta originalità in quello che hai fatto. Grazie. 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 Grazie a tutti. Grazie a Francesco Pergamò, diretor del European Interiors. Comeziamo a parlare, il sapere di mio lavoro, di come io mi relazionavo con il designio, qual'era il mio approccio, il mio modo di pensare il designio. Il lavoro con i materiali in una forma molto particolare, in collaborazione con gli arti italiani di mio paese, di Argentina. Il anno passato, abbiamo una riunione, la mia occasione per il Milan Design Week, e abbiamo parlato molto sull'identità dell'Europa e lo che significa l'Europa nel mondo del designio e della moda. e nel settembre dell'anno passato, dopo di pensare molto sul concepto di Apacetta, che è un concepto che io avevo in mente hace molto tempo, pensé che fosse il concepto che fosse interessante per il progetto e le propuse con una presentazione molto breve, tranquilla, contandole che significava Apacetta. Che significa Apacetta? Apacetta è una forma di dire che i camminanti a piedi che recorrono i Andri e le montagno stanno costruendo questi piccoli totemi nel cammino, e è una forma di dire grazie a la Pachamama, la Pachamama è la madre terra, e anche di una forma di dire permesso, di dire che io sono qui e sono grazie per essere in questo mondo, in questo momento, in questo momento. è prezioso lo che ha sdicio, lo voglio semplificare, a renderlo più semplice in italiano. Cristian ci ha raccontato, ve lo racconto brevemente, il concetto e il concept che è dietro a questa installazione, e c'è tanta tradizione dei viandanti, dei camminatori delle ande argentine. Questa è una torre che simboleggia le piccole torri di pietra che i camminatori creano durante il loro cammino per dare rispetto alla terra e il cammino che percorrono. Cristian, io prima ti raccontavo, ho un'anima da camminatore, e quando ho visto la tua opera mi sono emozionato perché ho percepito questa spiritualità, questo rispetto verso il prossimo, verso la terra. e il nostro prossimo, più cercano, è la nostra madre terra. Esattamente. E lo che tu hai fatto, e spero che anche altra gente le ha legato questo messaggio. Quello che Cristian ha fatto ha ricevuto comunque tanta gratitudine da parte dei visitatori perché sono riusciti a percepire questo messaggio. E questo è bellissimo. Eravamo qui poco fa, una signora si è avvicinata e quasi emozionata con la slide. Grazie per l'occasione. È bellissimo. Grazie. Ora passiamo un po' alla parte più tecnica. in spagnolo, ok? Sì. Come sono state le torri? Di quali materiali? La struttura? La struttura? La struttura di metallo dentro. Per riusciti una piazza di una altra. Tutta la parte interna, la forma che le dà la forza, è stata fatta con un polioletano totalmente 100% reciclato. e tutti i textili che fuori selezionati a partire dei textili che sono di segura o di riuso, per non usare materiali di origine. Usiamo materiali descartati o che sono già fuori serie o che restano poco... Sempre fibra esclusiva dell'Europiana, però riutilizzata. Sì. Quindi ci troviamo davanti a delle strutture 100% riciclate, riutilizzate e riciclabili. Perfetto. Abbiamo una struttura in ferro di composta, possiamo vedere la struttura di polioletano riciclato. 100% riciclato. 100% riciclato. con tutte le stoffe all'Europiana 100% riutilizzate. Sì. Di seconda o terza... Sì. Di seconda o terza... Sì. 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 e direttore editoriale di una testata di architettura e design che parla sostenibile, parla innovativo. Io avevo il desiderio di intervistarti perché l'altra volta quando sono arrivato feci quella storia e dici l'Europiana trae spiritualità e tradizioni dello sbiandante nel Brera Design District. È prezioso. Grazie mille, grazie e grazie a Cristian.